L'archivio audiovisivo canavesano nasce ufficialmente nel 2006 per un'iniziativa congiunta del sistema bibliotecario di Ivrea, allora diretto dal dottor Fra Giacomo e del comune di Castellamonte, che decisero di incaricare il sottoscritto Emilio Champagne per un'iniziativa abbastanza nuova sul territorio. Dal punto di vista del comune di Castellamonte ci venne messa a disposizione la sede di Palazzo Botton, nella quale ancora oggi risiede l'archivio, e la disponibilità del Salone Martinetti per le proiezioni e per altre iniziative che abbiamo organizzato da quel periodo fino ai giorni nostri. Invece il sistema bibliotecario di Ivrea ci ha veramente supportati, soprattutto in rapporto con la regione, dalla quale abbiamo anche ricevuto qualche finanziamento, un decoroso rimborso spese, sostanzialmente per due attività che poi alla fine sono quelle di cui forse andiamo più orgogliosi. Da una parte abbiamo realizzato dei documentari, quello sulla filovia, quello sulla ferrovia e anche altri, e dall'altra abbiamo trasmesso ad una più generale banca dati regionale 5.000 a questo punto immagini di soggetto canavesano. A fianco di questo lavoro di conservazione del materiale fotografico i filmini realizzati anche dalle famiglie in maniera piuttosto artigianale negli anni 50, 60, 70, che magari si sono conservati bene come pellicole, quello che non funziona più sono le macchine per proiettarlo, anche questo va con la tecnologia più adatta possibile tradotto in formato digitale e se poi l'argomento è interessante, cerimonie di tipo pubblico, sportive, religiose, eccetera, può diventare un soggetto di argomento generale. Lavoriamo quindi su questi due ambiti sostanzialmente, abbiamo accumulato materiale notevole, lo abbiamo indicizzato come Dio comanda, quando il materiale ce lo consente facciamo degli approfondimenti più tradizionali di tipo cartaceo per produrre questi documentari che non sono in vendita, ma sono stati, e per noi è estremamente gratificante, considerati materiali di consultazione, sono stati distribuiti dal sistema bibliotecario di Ivrea presso tutte le biblioteche del Canaverio. Grazie.